Una pentola a pressione si è incendiata durante la cottura della carne in un'abitazione a Bastia Umbra. È successo nel pomeriggio di lunedì. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, la polizia di Assisi e il personale del 118. La persona dentro l'abitazione, un marocchino del 76, è stato salvato. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, l'uomo aveva già perso i sensi e si trovava disteso sul divano. L'incendio è stato spento e l'uomo soccorso dai sanitari. Sta bene e si è ripreso subito. L'abitazione si trova proprio alle spalle della farmacia comunale di Via Firenze, a dare l'allarme i vicini di casa che avevano visto uscire del fumo dalla finestra.